talvolta le opere antiche ci sorprendono ci sorprendono perché capita di imbattersi in pagine che sembrano scritte ieri per la freschezza con cui vengono presentati i sentimenti per l'attualità anche delle situazioni così vicine alla nostra esperienza quotidiana e allora non resta che andare a leggere con attenzione per capire un po' da dove abbia tratto spunto, ispirazione l'autore tenendo presente che quando si tratta di opere antiche necessariamente il percorso passa per un rapporto stretto con la tradizione il fare poetico non è mai qualcosa di spontaneo, di genuino ma passa per l'innovazione sicuramente che significa l'apporto dell'autore ma tiene presente soprattutto e dell'altro binario della scrittura la tradizione con la quale l'autore che scrive ingaggia una sorta di battaglia a distanza che in realtà è una sfida lanciata al lettore chiariamo questo concetto che è importante nella poesia omerica non si parla mai di sentimenti quando Virgilio nel quarto libro dell'Eneide descrive l'amore tragico che Didone prova per Enea tiene presente un illustre precedente letterario le Argonautiche di Apollonio Rodio l'unico testo di epica di età ellenistica conservatosi fino ad oggi in cui nel terzo libro si descrive espressamente quella che è la passione di Medea la figlia di Eta, il re della Colchide per questo straniero sopraggiunto con l'intento di portare via il famoso vello d'oro ed è giunto in compagnia, come si sa, degli Argonauti Medea si innamora per effetto di Eros di questo straniero collaborerà con lui farà in modo che egli riesca a superare le prove ma nel fare questo si metterà contro i suoi genitori Virgilio ricalca le stesse scene che erano state calcate da Medea perché anche per Didone si tratta di un amore tormentato di un amore che parte contrastato nel suo animo per la sua fedeltà nei confronti del cenere del marito Sicheo era capitato questo suo fratello, Pigmaglione, le aveva ucciso il marito Sicheo compiendo un atto che nell'ottica degli antichi romani si configurava come un fratricidio come qualcosa di empio come se un fratello avesse ucciso il fratello e dopo questo omicidio si era imbarcata con alcuni dei suoi uomini le donne di Tiro per raggiungere all'opposto del Mediterraneo le coste dell'attuale Tunisia dove fondò la città di Cartagine quando Enea sopraggiunge la città è ancora in costruzione la sua situazione è quella di una donna che è fedele al ricordo del marito lei parla espressamente di Pudor che è qualcosa di forte perché indica la subordinazione di Didone nei confronti della memoria del marito diversa era la situazione di Medea la quale per aiutare Giasone dovette andare contro ai suoi genitori quindi in quel caso nell'ambito greco si parla di Aidos che significa vergogna ma è una vergogna legata alla subordinazione di Medea ai genitori e poi c'è un altro aspetto interessante Didone rappresenta un ideale di donna romana che è quello dell'univira cioè della donna che ha conosciuto Unus un solo marito e come tale è oggetto di rispetto perché è animata nei suoi sentimenti fondamentalmente dalla castità e dalla devozione questo atteggiamento nel codice romano era una difesa del proprio onore e trovava l'approvazione di tutti il discorso che Virgilia affronta quando descrive il tormento di Didone in realtà incrocia sia sul piano letterario un modello antecedente sia sul piano culturale dei motivi presenti ben presenti nella società romana dell'epoca da quanto detto risulta dunque evidente che due donne in due contesti completamente differenti Medea principessa della Colchide siamo in Georgia sulle coste del Mar Nero e Didone sulle coste dell'Africa vivono una situazione d'amore che in realtà è un amore tormentato in entrambi i casi l'amore è il risultato di un intervento divino Eros con la sua freccia ha colpito Medea e Cupido nei panni di Ascagno siede vicino a Didone e in questo modo opera perché ella si innamori di Enea mentre lo sente parlare l'ultimo elemento che possiamo evidenziare è come le due donne si comportino diversamente rispetto ai familiari perché mentre Medea non confessa la sua passione la tiene nascosta nel proprio animo diverso è il caso di Didone che proprio all'inizio del quarto libro si appresta ad una confessione fatta alla sorella Anna allo stesso modo in cui risultava nel codice tragico abbiamo un personaggio forte che è Didone affiancato da un personaggio mediocre che è Anna, la sorella mentre il primo è animato da valori che sono sicuramente sublimati che sono elevati l'altro invece risponde più ad una logica comune incarna un modo di pensare opportunista ed è proprio questa sua mediocrità che fa emergere l'altezza d'animo di chi gli sta a fianco all'inizio del quarto libro la situazione è una situazione di tormento di passione che impedisce a Didone di dormire durante la notte le metafore in uso parlano di ferita di piaga, di fuoco le normali metafore che dalla poesia di Saffo in poi segneranno sempre le descrizioni d'amore il pensiero che è confitto nel petto ed un tormento che la sottrae al sonno e poi al mattino c'è l'incontro con la sorella e qui si tratta di una ragazza innamorata è persistente in lei il pensiero di Enea Enea che pare essere di una stirpe divina per la forza che ha dimostrato nell'affrontare tutte le sofferenze impostegli dal fatto ma c'è subito un sé anzi sono due i sé la propria fedeltà salda e incrollabile nei confronti del proprio marito e poi la propria volontà il proprio desiderio di astenersi da nuove nozze anche se ammette che per questa unica colpa avrebbe potuto soccombere passaggio interessante perché se le argomentazioni escluderebbero la possibilità che ella ceda al proprio sentimento al contempo Didone dichiara che di fronte a quest'unica colpa forse avrei potuto soccombere dice riconosco l'antica fiamma e i suoi segni al di là della logica emerge l'elemento della passione e questo connota la natura tragica di Didone che come tutte le grandi eroine tragiche penso in particolare a quelle del teatro di Euripide si trovano sempre divise tra il dover agire il rispettare quello che è la ragione detta da un lato e dall'altro invece il desiderare il voler ardentemente e questo invece pertiene alla passione e all'irrazionalità e da ultimo Didone parla di pudore pudore con la P maiuscola perché vuole valorizzare quello che è un sentimento radicato nella mentalità romana e che è l'unica ragione per cui ella si astiene da realizzare il proprio amore in questa situazione nonostante riconosca i segni dell'antica fiamma Anna è una figura invece che obbedisce ad una logica opportunista perché intanto le richiama il fatto che lei è giovane e come tale non può in nome della fedeltà a chi non c'è più a chi è morto rinunciare ai segni dell'amore e poi c'è una ragione che è veramente di opportunismo politico perché le ricorda che il regno che sta fondando è circondato da gente ostile e nomina i popoli nomina i gettuli i numidi i barcei i cui principi i cui re si erano già fatti avanti come pretendenti ma lei in nome dell'onore e della memoria del marito aveva ovviamente rifiutato le loro proferte amorose ma Anna ribadisce anche che questo si configura come un amore gradito e che nel caso di nozze con il nuovo venuto sicuramente ne avrebbe ricavato una maggior solidità il suo regno ecco l'opportunismo politico le nozze di convenienza perché in questo modo non ci sarebbe stata una donna a capo di un regno bensì una coppia regale date le premesse Anna suggerisce ad Idone di trovare dei pretesti di indugio delle ragioni di indugio cioè fare in modo che Nea non sia lontani aducendo per esempio la difficoltà della navigazione durante il periodo invernale oppure la necessità di lasciar trascorrere un tempo perché tutte le navi che sono state rovinate dalla tempesta vengano riparate e le parole di Anna rompono gli argini fanno in modo che la passione si possa esprimere si possa aprire un barco nel cuore di Idone e cadano quei freni che lei aveva adotto e le parole sono chiare questo dicendo infiammò di intenso amore il suo animo diede speranza alla mente dubbiosa e dissolse il pudore ed ecco che nei versi successivi Idone attende a tutti i sacrifici propiziatori perché intende ingraziarsi gli dèi perché l'amore abbia il corso che lei si auspica però il narratore che non è mai un narratore distaccato oggettivo come nell'epica omerica ma è partecipe lascia trapelare il suo punto di vista e quindi interviene con una domanda o ignare menti degli indovini esclama e poi a lei folle che giovano voti e templi la fiamma divora le molli midolla nel frattempo e vive segreta nel petto la piaga Virgilio prende posizione rispetto a quella che era la consuetudine di interpellare gli dèi sperando magari che gli dèi potessero contribuire a che le cose si mettessero a posto ma è folle di Done ad agire in questo modo perché non potrà trarre e il narratore lo sai per questo dice a che giovano voti e templi non ci sarà soluzione perché la strada intrapresa da Didone sarà una strada senza via di uscita ricorda Virgilio la fiamma che divora le molli midolla nel frattempo e la piaga che vive segreta nel petto e poi un altro tratto assolutamente moderno l'irrequietudine l'incapacità di stare il muoversi costantemente ed una grande similitudine la similitudine che mette in parallelo lo spostarsi costantemente in tutte le parti dovunque della città di Ridone con la situazione di una cerva che è stata ferita sui boschi cretesi da un pastore il quale è ignaro di averle lasciata conficcato la lato ferro mentre invece lei fugge percorrendo selve e balze e intanto dentro di sé porta conficcata quella freccia che le procurerà la morte il parallelo è tra il cacciatore ignaro di aver colpito di aver fatto centro ed Enea che è ignaro di quello che ha provocato nel cuore di Ridone e così vediamo i due muoversi per le vie della città fra le mura con Ridone intenta a mostrare le ricchezze è la città che si sta costruendo e poi altro elemento che denota la maestria di Virgilio nel descrivere una situazione psicologica a metà del discorso non sa più parlare lascia le parole sospese perché in questa frase c'è tutto l'entusiasmo tutta la ritrosia tutta anche l'appassionalità che blocca di Ridone nel momento in cui parla prima il narratore l'ha definita folle adesso la definisce insensata perché perché Ridone vuole ascoltare Nea vuole sentire ancora da lui il racconto delle vicende troiane ma questo non fa che acuire la sua pena e poi altra nota psicologica per dire della modernità del testo lei da sola che si strugge quando la casa è vuota che si distende dove dove prima stava adagiato Enea oppure che vede Ascagno lo tiene in braccio e vede in Ascagno il proprio amato una situazione davvero difficile si profila per quale ragione perché l'uomo del quale Ridone si è innamorato è un uomo pius un uomo che è devoto agli dèi alla patria e ai genitori è un uomo dunque che subordina la propria volontà ad una volontà superiore a un disegno superiore per questa ragione il quarto libro è assolutamente da leggere perché noi troviamo da un lato il codice privato i sentimenti di una donna innamorata e dall'altro invece quella che potremmo definire antelitteram la ragione di stato cioè delle ragioni superiori che inducono Enea a rifuggire dal proprio privato a mettere da parte i propri sentimenti perché ha ben altre imprese superiori suo malgrado da compiere l'ultima immagine è quella di una città intera che langue come grande e languore della sua regina le torri intraprese che non crescono la gioventù che non si esercita nelle armi non si preparano i porti non si provvede a ciò che può costituire difesa per la guerra sospese sono interrotte le opere muri di immense minacce e palchi portati su al cielo lavori fermi come fermo è il cuore di Didone che ha messo da parte a fatica il suo essere regina per seguire il cuore l'anima l'anima